Ancora un marchio italiano che finisce in mani straniere, Indesit, la storica azienda marchigiana di elettrodomestici, viene comprata da Whirlpool per 758 milioni di euro. L'annuncio è arrivato dopo l'accordo con Fineldo per la cessione di una quota di oltre il 60%. Il colosso americano acquisterà il 42,7% dalla holding dei Merloni e il 17,6% dai singoli membri della famiglia fondatrice. Terminata l'operazione, Whirlpool lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle quote restanti a 11 euro per azione. Prudenti i sindacati che ora chiedono il rispetto del piano industriale.